Un caso che ci pone dinanzi la vulnerabilità della rete, così il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Giulio Francese, si è espresso manifestando vicinanza a fronte del problema che ormai da 12 giorni interessa il quotidiano online regionale Gazzettino di Sicilia, i cui server sono stati colpiti da un attacco hacker lo scorso 25 gennaio. Dalle 3 alle 8 ore al giorno, infatti, la pagina del quotidiano sarebbe risultata irraggiungibile ai propri lettori. Il motivo per cui noi oggi abbiamo voluto uscire allo scoperto è proprio quello di raccontare una storia. Voi immaginate se a una qualsiasi bottega mettessero la colla nei lucchetti per 12 giorni di seguito, se manomettessero la tipografia del giornale di Sicilia per 12 giorni di seguito, quale sarebbe l'impatto nella nostra città e nella nostra regione? Questo non è il problema del Gazzettino di Sicilia, questo è un problema nostro e lo risolveremo noi tecnicamente. È un problema che riguarda, secondo me, l'informazione online, le regole dell'informazione online, la capacità di investigare sui reati della pirateria informatica, la capacità di reprimerli, la capacità di fare fronte comune. Perché oggi è toccato a noi, domani può toccare a chiunque altro. È un problema che non colpisce soltanto la testata, ma l'intero mondo dell'informazione, che colpisce la libertà di stampa e il diritto del cittadino di essere informato. Noi come ordine dei giornalisti lo metteremo all'ordine del giorno, questo problema, proprio per rifletterci e cercare di arginarlo. L'appello, gli appelli, anzi sono due. Il primo è quello che la legislazione faccia il proprio corso e soprattutto si rinnovi proprio in virtù di questi cambiamenti. E l'altro, che rivolgo a colleghi, a direttori, è quello di denunciare episodi simili a quelli che sono accaduti al Gazzettino e stanno accadendo al Gazzettino di Sicilia. Perché troppo spesso si cerca di risolvere il problema dimenticandosi che stiamo comunque parlando di un reato che va perseguito penalmente e che quindi si ha l'obbligo morale non solo di denunciare.